La novantesima adunata La sfilata che ha avuto mesi e mesi di organizzazione di cui bisogna dare un grosso tributo a Elda Veronese che è la direttrice dell'APT, benvenuta Elda Grazie, grazie a voi, una giornata speciale 5 giorni speciali, da mercoledì che la città di Trento è coinvolta da queste persone straordinarie che sono gli alpini e tutti gli accompagnatori veramente credo che rimarrà nella storia è una novantesima adunata che ricorda la storia, la cultura ma è una novantesima adunata che veramente rimarrà nel cuore di tutti posso dire emozione ma anche tanta commozione si è vissuta in questi giorni e poi vediamo anche il lato turistico veramente Due anni di organizzazione, due anni per fare cosa? Sì, io sono stata coinvolta dal presidente Pinamonti e dal vicepresidente Frizzi già nel maggio 2016 la novantesima adunata la novantesima adunata